Talvolta il dolce non ha successo. Per non correre rischi, recati da Dolci Decori. Dolci Decori è vendita al dettaglio per cake design e pasticceria, decorazioni per torte, stampe in cialda e in zucchero, torte di caramelle e materie prime, composizioni di palloncini e addobbi per le feste. Dolci Decori è un negozio ben fornito e il personale gentile e competente. Sempre pronto a darti preziosissimi consigli per le tue dolci creazioni. Dolci Decori e Iglesias in via Calabria 1, angolo via Regione. E ricordate, con la tessera Fidelity ogni 10 euro spesi un timbro e ogni 10 timbri 10 euro di buona spesa. Grazie per la visione!